Pavolecchi è in campo da poco più di 50 secondi, ha zecchato il come il cambio a Gasperini, 1-0 la sbloccata in Genoa al dodicesimo di questo secondo tempo, 6 gol l'anno scorso in 7 partite per la finale di campionato 4 nelle ultime 4 giocate Leonardo Pavolecchi, 1-0 Un infortunato Catbe che non aveva giocato benissimo il pallone, poi l'inconda e alla fine il pallone arriva sul destro di Pavoletti che da quella posizione non può sbagliare, battuto Raffaella e vantaggio meritato del Genoa, 1-0, ottavo gol in Serie A per Leonardo Pavoletti Intrato veramente pochissimi secondi prima di segnare questo gol al posto di Panderma Ma lo c'era il conto, in Morana c'era